Tradizione musicale e tipicità gastronomiche unite per dar vita a tre serate, dove sonorità e gusto permetteranno ai presenti di fare un viaggio indietro nel tempo. Si tratta del Vico Folk Dinner, un'occasione da non perdere per gli amanti della cucina d'eccellenza e dei ritmi popolari. Rappresenta un itinerario gastronomico musicale tra gli alberghi di Vico e Quenze, perla della penisola sorrentina. Prima tappa, domenica 29 agosto, presso la splendida terrazza dell'hotel Torre Barbara, con la musica dei cammorrari del Vesuvio. Seconda tappa, venerdì 3 settembre, allo Scraio Terme con i Crocevia e con la cucina di Nonna Rosa, chef Giuseppe Guida. Terza e ultima tappa, domenica 5 settembre, presso il suggestivo belvedere del Grand Hotel Moon Valley, con i ritmi dell'apparanza mediterranea. Il Vico Folk Dinner, organizzato dall'Agenzia di Comunicazione Semioticando di Lenia De Rosa e con la direzione artistica del maestro Luigi Stajano, è rivolto a quanti desiderano trascorrere una serata piacevole, tra le eccellenze e la tradizione. Prenota e affrettati, perché i posti sono limitati. Chiama al numero 338 32 83 418, oppure manda una e-mail a info-semioticando.com. Partecipa al Vico Folk Dinner.